Buongiorno, benvenuti a tutti, ben ritrovati e soprattutto buon inizio settimana a tutti voi carissimi telespettatori che ci seguite tutti i giorni, numerosissimi su Fano TV, sul canale 17 del digitale terrestre, cominciamo subito dal santo del giorno, poi i giornali, il meteo e tutto quanto oggi è San Matteo, apostolo ed evangelista, il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà a 19.11 minuti, cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, dice così il detto, questa è la parte nord la telecamera è puntata verso il nord, vedete però la città è illuminata dal sole quindi significa che c'è uno spiraglio verso la parte meridionale, insomma comunque è una giornata un po' così con 20 gradi la temperatura esterna alle 7.30 del mattino, questa è quella che vediamo naturalmente in diretta, ma se volete poi l'aggiornamento potete andare sul nostro sito internet occhiolanotizia.it, entrare nel nostro osservatorio meteorologico e vedere, avere tutti i dati aggiornati al momento, cioè al momento in cui voi vi connettete. Andiamo adesso sulla pagina invece della protezione civile delle marche per vedere le previsioni per oggi, oggi è lunedì 21 settembre, cielo sereno poco nuvoloso con per nuvole cumuliformi residue nei settori meridionali, temperature lieve diminuzione, le minime in aumento le massime, eventi nord orientali, per domani, martedì 22, cielo sereno, temperature in lieve aumento. Probabile peggioramento per la parte centrale della settimana, seguito però da un miglioramento per il fine settimana. Cominciamo dal messaggero di Pesaro, lista è d'attesa, ci siamo, visite anche di notte nei giorni festivi, niente CUP, centro unico di prenotazione per patologie sensibili. Ceriscioli, il Presidente della Regione, conferma il piano e i tempi, dice agiremo anche su chi prenota e poi non si presenta, ingrossando appunto le file, gli faremo pagare il ticket, quindi attenzione, agiremo anche su chi prenota, poi non va alla visita perché comunque chi prenota e poi non ci va, allunga la lista d'attesa. Gli faremo comunque, anche se non ci va, pagare il ticket. Mi pare anche una cosa buona e giusta. Blitz delle Forze dell'Ordine al centro Grisli, affano, momenti di tensione, sabato sera allo spazio autogestito del vecchio aeroporto, nella zona del vecchio aeroporto, ragazzi e ragazze erano seduti a tavola, all'aperto, qualcuno aveva invitato a cena anche la mamma e il papà, quando numerosi, tra carabinieri, poliziotti e finanzieri si sono presentati per controlli di tipo amministrativo e fiscale. La risposta è stata l'immediato coagularsi di un muro umano davanti al portone del centro sociale, tutti a dire no, qui non si passa. Poi strade, riparte la stagione dei cantieri, la zona del Santa Colomba e via Mancini, queste sono le urgenze per quanto riguarda le strade nella provincia di Pesaro. Il meteorologo invece sulla pagina del messaggero dice tempo bello, ma comunque sarà ventoso. Entriamo all'interno del giornale, anche qui strade con la brodo, la stagione dei cantieri finalmente partirà, asfaltature appaltate per 800 mila euro, una soluzione di emergenza per via Mancini, siamo naturalmente a Pesaro. A breve ripartirà anche una corsia alla rotatoria di Santa Colomba, in attesa che a metà ottobre finiscono i lavori e i frequenti ingorghi. Schianto mortale, il bus tornava da Marotta, un incidente che c'è stato a Gubbio, rientrava da una gita a Marotta, il pullman rimasto coinvolto sabato sera a Gubbio in un tragico schianto con un bilancio di tre morti. L'incidente stradale avvenuto tra Gubbio e Umberti da in località mocaiana di Gubbio, oltre i due conducenti dei veicoli di 50 e 33 anni, è morta nella notte all'ospedale di Perugia, anche una donna di nazionalità romena di 30 anni che viaggiava insieme al marito a 33 anni, neppure Romeno, nell'auto che era diretta a Pesaro. Salvato un setter, un cane caduto in una fossa, era assetato, cercava l'acqua, ma per raggiungere quel che restava di una pozza semivuota è scivolato cadendo per circa 10 metri in un fosso da cui non è poi più riuscito a salire. È successo ieri nelle campagne di Sant'Angelo in Vado. Allora, andiamo adesso sull'altra pagina, l'ultima, quella del messaggero, al dibattito, alla festa del Partito Democratico, alla festa dell'unità di Fano. Il governatore Ceriscioli ha commentato il monito del procuratore Palumbo dopo il crack della Comfort. Palumbo ci dice di non mollare, uscire dalla palude, un termine forte, ma le sue parole le interpreto come un invito a non abbassare la guardia. Poi, sempre a Pesaro, investe una coppia tradito dallo specchietto rotto. Dopo l'allarme dei vigili urbani, la polizia lo blocca non lontano dall'incidente. Dopo aver investito e travolto questa coppia sul ciglio della strada non si è fermato né per prestare soccorso né a chiamare aiuto e dunque è scappato. È stato ritrovato, mentre alla fiera di Fossombrone, lo vedremo tra poco anche su altri quotidiani, 70 abusivi fermati e rispediti indietro in autobus. Allora, adesso andiamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano. Ora, un giro di vite contro l'abusivismo. Parla Stefano Marcheggiani, che promette aiuto agli operatori turistici, sono la chiave del successo di questa stagione. Secondo le prime rivelazioni, è cresciuto il numero dei turisti, ma sono incrementati anche i giorni di permanenza. Poi, anche qui, blitz dei NAS. NAS sta per nucleo antisofisticazione, che è il nucleo dei carabinieri, alla cena nello spazio grizzly. Questo è successo, lo ricordiamo, sabato. I fanesi hanno già scelto la bici per andare in centro, presidiando le tre porte d'accesso in una mattinata, quella di sabato. I volontari di 14 associazioni hanno contato 3.234 ciclisti. Quella mattina, poi, c'era l'iniziativa che chi andava in bicicletta in centro storico veniva premiato simbolicamente con una caramella, un cioccolatino, insomma, tanto per. Comunque, 3.234 persone in bicicletta sono state contate e fermate. Quindi, insomma, coppici, vabbè, anche la bella giornata. Insomma, sabato era comunque una buona giornata, ma sono dati interessanti. Notte bianca, invece, o notte in bianco a teatro, sono 114 i coraggiosi dell'abbonamento, successo dell'iniziativa organizzata nel foyer della Fondazione. 114 persone hanno sottoscritto durante la notte in bianco, organizzata la Fondazione, gli abbonamenti alla stagione di prosa. Molti hanno prenotato 4 abbonamenti ciascuno. Il record dell'attesa spetta alla professoressa e scrittrice Giorgia Buccellati, fedelissima alle rappresentazioni, che si è presentata alle 14 di sabato pomeriggio. Liceo scientifico Torelli, oggi il ritorno a scuola, effettuati i lavori di bonifica per l'amianto. La fiera, la fiera paralizzata, quella di Fossombrone, da 300 venditori irregolari, nella notte hanno bivaccato in Piazza Dante, il Comune chiede aiuto a Polizia e Prefettura. Circa 70 stranieri allontanati, grazie al pullman messo a disposizione da Adriabus, ma sono tornati in taxi. Galantino sui profughi. Non aspettiamo una Photoshop per comportarci da cristiani. Galantino ha partecipato al convegno diocesano pesarese, chiuso dall'arcivescovo Piero Coccia. ovviamente la foto a cui si riferisce, la Photoshop, è quella del bambino riverso a terra, pancia sotto, sulla battigia. Boom senza vita. Boom di visitatori per la Rocca di Gradara. Siamo sempre sul giornale, sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesoli Provincia. Poi anche qui, travolge una coppia e fugge. Preso un pirata della strada, falciati moglie e marito, lei è in prognosi riservata, subito bloccato, l'investitore risultato ubriaco. Le Marche si preparano al giubileo della misericordia. La Regione sta predisponendo un programma tra itinerari religiosi ed eventi culturali che coinvolgeranno tutto il territorio. Riflettori puntati sui cammini lauretani che da Roma portano fino alla Santa Casa. Da Pesaro, Marche Nord, il mese dei lunghi coltelli. Politica, magistratura, interessi economici e consolidate cordate. Le strategie in attesa del nuovo assetto. In questa immagine Aldo Ricci, direttore generale degli ospedali riuniti Marche Nord e Maria Capalbo, ex direttore dell'area vasta numero uno. Entra in mischia anche Crescentini, rispolverandola Montefeltro e il conflitto di interesse di Capalbo. Per il Santa Marta niente decreto buona scuola, la provincia non ha presentato alla Regione il progetto per concorrere ad ottenere fondi per l'anno in corso. Le scosse di terremoto a Borgo Pace, dopo la paura, oggi tornano, gli studenti tornano in classe. La pagina di Pesaro, invece, del resto del Carlino, anche qui si fa riferimento al dibattito che c'è stato alla festa dell'Unità di Fano, dove Ceriscioli dice l'ospedale unico va localizzato, decidete voi, oppure lo farà la Regione. Il Presidente risponde così dunque ai sindaci, il Partito Democratico di Fano è in fibrillazione. Per Renato Claudio Minardi l'unico posto dove costruire questo nuovo ospedale è Fosso Segiore, cioè tra Fano e Pesaro, l'unica soluzione possibile, perché accontenta tutti quanti. Ceriscioli dice non avendo il progetto non abbiamo potuto partecipare al bando per i fondi dell'Inail. Sull'altra pagina, invece, del resto del Carlino, si parla oggi dell'orribile delitto di Sant'Angelo Invado, si parla del tradimento di Ambera. Ambera è la ragazza che ha fatto ingelosire Igli e che poi lo ha portato all'uccisione di Ismaele Lulli. Dopo la confessione della ragazza, Igli ha preparato la vendetta. L'omicida ha avuto un rabbioso alterco con la fidanzata, lei dice invece a parte qualche schiaffo non era mai stato violento, però, insomma, alla fine questo è quello che è emerso dall'incidente probatorio, la ragazza allieva del liceo artistico di Urbino. e poi il Carlino giustamente ripercorre un po' tutte le tappe dall'agguato, l'abbandono del corpo e poi la cattura di Igli insieme al compagno Mario. Caccia al Grisli ha cerchiato il centro sociale, intervento delle forze di polizia e poi per il Torelli primo giorno di lezioni, i lavori sono conclusi, il liceo scientifico dunque apre oggi. Alla fiera di Fossombrone tensione tra Vucumpra, carabinieri e vigili urbani fatti salire su due pullman e poi portati a Fano. Il vice sindaco Chiarabilli eravamo preparati al loro arrivo e avevamo anche assoldato quattro buttafuori. Il calcio infine per chiudere due pagine riservate alle squadre di serie D ovvero la Fano e la Vis. Fano si inceppa la macchina da golla ieri a Isernia 0-0 quarta giornata i Granata soffrono l'agonismo dei giocatori locali costruiscono poco e rischiano nella ripresa. Alessandrini l'allenatore del Fano dice noi siamo stati poco brillanti però il punto ce lo siamo guadagnato il tecnico Granata abbiamo pagato le tre gare giocate in sette giorni prima della gara avrei firmato scusate per un pari ma ora dico che avremmo meritato noi la vittoria per quanto riguarda invece la Vis ecco la prima gioia ha scoppito Biancorossi efficaci apre Evacuo Floris assesta il KO alla fine la Vis Pesaro vince sul campo della Miternina per due reti a 0 Pazzaglia dice linee strette con 4-4-2 e gara subito in discesa allora vi do questo aggiornamento per quanto riguarda il calcio siete tantissimi coloro sono tantissimi coloro che ci chiedono informazioni circa la differita del Fano Calcio a loro a tutti abbiamo detto quella che è la realtà ovvero che i diritti del calcio costano costano anche parecchio perché costano 5.000 euro più IVA per la stagione Fano TV1 non è la RAI non ha un abbonamento viviamo di poca pubblicità e di qualche speciale per cui dobbiamo fare i conti l'anno scorso abbiamo speso tanti soldi abbiamo investito 8.000 euro in tutta la stagione calcistica ne abbiamo incassati soltanto due di conseguenza ci abbiamo rimesso 6.000 euro quest'anno ci siamo chiesti se era il caso di fare di nuovo questo investimento così importante anche se riferito ad una squadra prestigiosa come quella del Fano però insomma chiunque qualunque imprenditore di fronte a quei conti avrebbe detto no poi in realtà si è messa in moto una macchina che è quella del club Forza Alma il club che è nato soltanto qualche settimana fa il quale si è preso l'incarico di raccogliere fare una sorta di colletta per comprare appunto questi diritti questa è la realtà grazie all'interessamento del club Forza Alma dunque questa settimana lavoreremo con la Lega per fare tutte le pratiche e quindi spero dalla prossima domenica di tornare con le nostre telecamere sui campi da gioco e quindi seguire di nuovo il Fano e trasmettervi le partite il lunedì sera tutto questo grazie al club Forza Alma che ha raccolto appunto attraverso soci simpatizzanti e quant'altro poi vi diremo anche giustamente chi sono perché se lo meritano noi faremo la nostra parte ovviamente con i nostri commerciali cercheremo i nostri inserzionisti spingeremo dal canto nostro però ecco questa è la realtà ed è tutto buona giornata e a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti